Benvenuti nel mondo degli orologi Seppelin. Seppelin è un'azienda tedesca che produce orologi di alta qualità con un design ispirato ai dirigibili Seppelin del famoso pioniere dell'aviazione, Ferdinand Graf, von Seppelin. Gli orologi Seppelin sono noti per il loro design vintage e classico che richiama l'era dei primi voli, combinato con materiali di alta qualità, design accurato e movimenti precisi. Seppelin produce una vasta gamma di orologi per uomini e donne, che includono orologi automatici, cronografi, orologi con movimento al quarzo e orologi con funzionalità aggiuntive come la data, la fase lunare e la resistenza all'acqua. La qualità dei materiali utilizzati per la produzione degli orologi Seppelin è elevata, con acciaio inossidabile, vetro zaffiro antigraffio e cinturini in pelle. Inoltre, gli orologi sono dotati di movimenti svizzeri o di movimenti giapponesi precisi. Il design unico degli orologi Seppelin li rende adatti a qualsiasi occasione, sia formale che informale. La scelta dei materiali e dei movimenti li rende altamente precisi e affidabili, oltre ad essere resistenti all'usura e all'acqua. Questi materiali garantiscono una lunga durata nel tempo e un aspetto elegante e raffinato.